Daniele Capuano, la situazione dei lavoratori del cimitero di Termoli stava diventando una vera e propria avvertenza territoriale ma grazie all'impegno e soprattutto all'accordo delle parti nato dalla conferenza stampa indetta precedentemente c'è stato il conseguimento di un buon risultato. Sì, siamo soddisfatti, c'era stata questa gara indetta dal comune di Termoli dove nell'ambito del bando di gara c'era una classo sociale quindi della salvaguardia dei posti di lavoro e l'azienda subentrante per nuova intenzione di applicarla nel fatto della conferenza stampa perché riteniamo che le regole vanno rispettate. Noi come CGL stiamo per affrontare un referendum dove chiediamo proprio quello la responsabilità di dare l'azienda e gli appalti dei committenti dove ci deve essere la tutela dei posti di lavoro, la salvaguardia quindi in un bando c'è questa clausola riteniamo che sia giusto che le regole vanno rispettate da chi si aggiudica la gara. Successivamente alla conferenza stampa effettuata nella giornata dell'altro ieri l'assessore Ferrazzano ha convocato le parti e come sempre quando c'è il dialogo abbiamo risolto la vertenza i lavoratori sono stati riassunti dall'azienda subentrante abbiamo anche ottenuto una formazione di qualificazione del personale perché il progetto è un progetto molto interessante di qualificazione dello stesso cimitero quindi anche per dare un servizio ai cittadini termonesi siamo soddisfatti anche di questo, speriamo che venga messo in atto chiaramente questo progetto che nel bando di gara, nella proposta che l'azienda ha fatto al comune venga rispettato e quindi siamo contenti che i lavoratori da oggi hanno ripreso a lavorare sono contenti e speriamo e ci auguriamo sempre che tutti gli enti pubblici quando ci sono le gare di appalto soprattutto nei settori di pulizie, delle menze, portierati e tutto applicano sempre la causa sociale perché il livello occupazionale in una regione dove la crisi ormai è a livelli impressionanti, è giusto sia una tutela a queste famiglie Nel dettaglio come sono organizzate le tornazioni? Nel dettaglio, noi tra virgolette, noi ieri abbiamo avuto l'incontro nel pomeriggio con l'azienda ci rivediamo proprio per mettere per iscritto quello che ieri abbiamo concordato nell'ufficio dell'assessore Ferrazzano l'organizzazione del lavoro chiaramente spetta all'azienda a noi interessa di stipulare anche nell'ambito dell'accordo una formazione perché significa riqualificare il personale e significa quindi nello stesso tempo creare le condizioni per un futuro più certo